È stata una partita sbagliata, approcciata male, dopo sei risultati utili consecutivi siamo incappati in una giornata no che secondo me ci può stare, dispiace perché comunque è stata fatta una partita non all'altezza, però penso che dopo tutto quello che abbiamo fatto abbiamo fatto semplicemente un passo falso. I miei compagni li ho visti ovviamente dispiaciuti, lo sappiamo tutti che è mancata la prestazione a prescindere dal risultato perché poi si può perdere, si può vincere, le partite cambiano tante cose, c'è stata proprio la prestazione negativa e siamo tutti molto rammaricati per questo, però ci teniamo tanto a prescindere perché è una bella partita, ma soprattutto dopo una sconfitta del genere penso che ci sarà la reazione giusta, già negli allenamenti si vede che l'atteggiamento è quello giusto. Noi non ci sentiamo assolutamente giudici del campionato perché comunque sia loro sono in testa, l'hanno fatto per tutto il campionato credo e quindi dipende più da loro che da noi, noi ci giochiamo qualcosa comunque di importante davanti ai nostri tifosi, vogliamo vincere assolutamente perché comunque sia nonostante la sconfitta brutta siamo ancora a due punti da playoff, l'ultima partita in casa davanti ai nostri tifosi e ci teniamo veramente tanto a fare bene, mi aspetto una partita difficile perché loro appunto sono primi dall'inizio, quindi sono sicuramente una squadra forte, però secondo me faremo una grande partita. Noi guardiamo partita per partita, adesso vediamo quella con il campo basso, purtroppo anche se vinciamo non dipende solo da noi perché bisogna dire cose come stanno, abbiamo squadre a due punti sopra e per cui noi dobbiamo cercare di vincere tutte e due queste qui, ragioniamo partita per partita, poi se faremo sei punti vedremo alla fine dove saremo arrivati, ma adesso penso sia inutile fare calcoli perché abbiamo visto che questa giornata abbiamo perso noi, ha perso anche Roma City per cui le ultime partite sono molto molto delicate.